Si sta propagandando da anni l'abbattimento del ferro di cavallo. Finalmente, come dico io, la storia mi dà ragione perché quella è la più grande farsa propaganda politica che non risolve e non risolverà nessun problema. Io da mesi vado dicendo che il problema si sarebbe spostato. Infatti si è spostato in due posti di 200 metri, quindi dal ferro di cavallo è nato il nuovo ferro di cavallo che scopriremo tra poco perché faremo una conferenza stampa lì di 200 metri in una parallela di via Lago di Capestrano e gran parte del problema si è spostato qui in via caduti per servizio. L'effetto dell'abbattimento del ferro di cavallo ha avuto il risultato contrario a ciò che si voleva ottenere. In una conferenza stampa con i cittadini, Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, dice che la situazione adottata per il ferro di cavallo ha incrementato lo spaccio nella zona di Fontanelle. Oltre 100 e il numero degli ingressi in un'ora in una delle palazzine dello spaccio, dice Pettinari. registrato da alcuni residenti di via caduti per servizio. Il problema è stato spostato come i pusher che cercano di conquistare nuove zone della città. Qui ci sono due civici in particolare, mi assumo anche la responsabilità di quello che sto per dire, dove si registrano dei traffici immensi. Sono stati registrati anche 100 presenze in un'ora in un civico di questi, dove molto probabilmente i acquirenti andavano ad acquistare droga. Questa è una cosa gravissima, quindi si sta spostando qui. Il fenomeno è molto forte, le occupazioni abusive ci sono, sono circa 20 occupazioni abusive, la criminalità diffusa, i cittadini vivono in una situazione di emergenza sicurezza. Cosa fare dunque? Io la ricetta ce l'ho in tasca, dice Perentorio, il vicepresidente del Consiglio regionale. Lo sfratto degli occupanti abusivi è verificare chi ha i requisiti sulla 96-96, chi non ha i requisiti va buttato fuori casa, mettere i cittadini onesti all'interno delle case popolari, ce ne sono 700 in graduatoria, 700 che aspettano, due cinturare queste zone, mettere una postazione fissa di polizia come già c'era con l'operazione strade sicure. Due militari e un poliziotto qui, due militari e un poliziotto nel nuovo ferro di cavallo comunque a Ragitelli, a quel punto risolvi già il 95% del problema. E poi vanno fatte anche situazioni di bonifica e portare servizi, perché qui mandano i servizi essenziali, i cittadini non hanno nulla, non c'è una farmacia, non ci sono i servizi.